ciao a tutti e benvenuti su amico pc oggi vedremo come creare immagine di sistema o un disco di ripristino del sistema su windows 10 queste due funzionalità potrebbero tornarvi utili nel caso in cui siate costretti a formattare il vostro pc o volete installare il sistema operativo come lo vedete quindi con tutte le applicazioni e configurazioni presenti su un altro pc tramite il crea immagine di sistema avete la possibilità di creare una iso che poi potrà essere montata o masterizzata o trasferita su una periferica esterna del sistema operativo nella situazione attuale con crea un disco di ripristino del sistema invece creare un disco per ripristinare il pc in caso di problemi chiaramente questa seconda opzione non è rivolta a pc esterni ma solo al pc in uso quindi se il vostro computer non si avvia più per varie problematiche grazie al crea un disco di ripristino del sistema potete appunto ripristinare il pc allo stato attuale quindi funzionante per poter accedere a backup e ripristino windows 7 su windows 10 basterà recarvi nel pannello di controllo sistema e sicurezza backup e ripristino windows 7 cliccando su crea immagine di sistema dopo pochi secondi o minuti a seconda del vostro pc vi troverete di fronte questa schermata dove dovete selezionare il disco da creare quindi in questo caso ad esempio selezioniamo j che è il disco dove è presente il sistema operativo o il dvd quindi potete decidere se creare l'immagine sul disco in uso o su un altro disco chiaramente bisogna che vi sia lo spazio sufficiente o su un dvd o su un percorso di rete se il vostro disco ad esempio è di un tera dovete avere un disco di un tera per fare il backup quindi assicuratevi di disporre dello spazio necessario per fare il backup questa funzione permette di creare un'immagine del vostro sistema attuale quindi delle dimensioni del vostro disco quindi se il disco è di 500 gb verrà creata un'immagine di 500 gb poi ovviamente avete la possibilità anche di includere tutti i vostri file solo il sistema e così via con crea un disco di ripristino del sistema invece dovete inserire un disco nel masterizzatore e avviare la procedura crea disco verranno masterizzati i file necessari per poter ripristinare il pc da disco quindi una volta che poi avete inserito il disco masterizzato nel lettore e avviato il pc con il disco potete ripristinarlo allo stato attuale quindi funzionante se questo video vi è servito cliccate sul pollice in alto iscrivetevi al canale se volete lasciate un commento per qualsiasi domanda ciao 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 ciao